Aveva rubato un paio di scarpe da ginnastica rimuovendo la placca antitaccheggio e prima di dileguarsi era stato fermato nel parcheggio dal responsabile dell'esercizio che nel tentativo di fermarlo era stato colpito al collo dal malvivente senza riportare lesioni. Alla scena aveva assistito l'avventore di un bar che aveva poi cercato di bloccare il giovane, giovane che aveva quindi estratto dalla tasca un coltello minacciando i presenti per poi salire in sella ad una bici da donna e dileguarsi. L'intervento dei carabinieri ha permesso di intercettarlo poco dopo. L'uomo perquisito è stato trovato in possesso delle scarpe oggetto di furto, una tronchesina utilizzata verosimilmente per rimuovere il dispositivo antitaccheggio e due coltelli che sono stati sequestrati. La bicicletta, risultata rubata, è stata restituita alla legittima proprietaria. L'uomo, 27enne straniero, è stato arrestato per rapina aggravata, supporto abusivo d'armi e ricettazione e condotto in carcere a Vicenza.